Eterno Ivica torna anche nel 2018 al Cersaie, la più importante fiera della ceramica in Italia e nel mondo, che ha accolto migliaia di visitatori da quasi un centinaio di nazioni. Ma cosa ha di speciale il Cersaie? È la più grande fiera dedicata alla ceramica e alle tecnologie e ai materiali che le ruotano intorno. Il distretto ceramico emiliano, probabilmente il più importante del pianeta, è in grande spolvero e anche quest'anno Eterno Ivica, che produce supporti per pavimenti flottanti, ha presentato altre novità per il mercato della posa. Abbiamo tre novità principali, abbiamo inserito oltre alle nuove linee prodotto una nuova linea prodotto, si chiama la linea Inside, sono dei supporti e una pavimentazione sopraelevata per fare pavimenti sopraelevati per l'interno. Oltre a questa invece esternamente abbiamo due novità, un sistema di antivento che mi concatena quelle che sono le mattonelle della pavimentazione ai nostri supporti, è una piastra di sicurezza, che è una piastra che serve ad essere inserita tra la pavimentazione e il nostro supporto per evitare che in casi accidentali la piastella si possa spezzare e possa cadere al di sotto per cui le persone si possono anche infortunare. È un mondo stupendo, è un mondo che toglie parecchi problemi a strutture esistenti, fattiscenti e rinnovando un po' il look con l'Italian Style che è Terno Evica il numero uno da questo punto di vista. Questo sistema è molto in sviluppo, un sistema di semplicità incredibile, tu puoi montare, smontare, hai un ristorante un giorno, il secondo giorno non ce l'hai più, lo smonti e vai via. Terno Evica è un marchio leader nel mercato per la sua qualità e per l'innovazione, praticamente tutti i grandi distributori di questo tipo di prodotti li cercano proprio perché sono estremamente utili. I nuovi prodotti per la posa all'interiori sono davvero molto interessanti, questo è segno di dinamismo da parte di questa azienda, è molto apprezzato. Tanti i clienti, gli agenti e i distributori da tutto il mondo. Segno che il prodotto di Terno Evica è richiesto, utile al settore e dotato di importanti caratteristiche come l'essere ignifugo e antivento. Quest'anno, oltre che con soluzioni per esterni, Terno Evica ha predisposto anche una serie dedicata agli interni. Presente come sempre la linea Phonolook, dedicata al comfort acustico degli interni, che sta riscuotendo grande successo tra architetti e designer da tutto il mondo. Io ho un mese che mi dedico appunto alla linea Phonolook di acustica, che è la linea che, come sai, affianca quella del phonisolamento per Terno Evica, le due soluzioni. Soprattutto questi che vedete alle mie spalle sono i Phonolook della linea Design, che è la linea proprio dedicata agli architetti e a tutti quei clienti che cercano qualcosa di un po' più innovativo e anche bello esteticamente. Spesso in realtà, devo dire, sono loro che ci propongono soluzioni che noi non avevamo pensato e che poi magari inseriamo anche nei nostri listini e cataloghi come immagini. Perché come noi aiutiamo loro da un punto di vista tecnico, poi in fase di realizzazione loro ci risultano molto utili a capire come offrire soluzioni anche belle esteticamente. È un prodotto completo. Abbiamo guardato anche la concorrenza, ma siamo rimasti con Terno Evica perché il prodotto è di grandissima qualità e questo piace molto sia ai nostri clienti che alle persone che lavorano con il prodotto che lo trovano davvero geniale. È utile sia sia per posare le piastrelle sulle terrazze che per gli interni. In Australia sono sempre molto attenti ai trend e agli oggetti che possono rendere un valore edile nella posa comunque di utilità importante e perciò hanno accolto subito l'utilità dei pedestal. Quindi là c'è grande fermento nell'edilizia, nelle costruzioni e il pedestal è venuto di conseguenza.